Entra nel vivo la sesta edizione dei lavori estivi per gli studenti. 200 ragazzi delle scuole superiori di Pordenone e provincia saranno impegnati in piccoli lavori di manutenzione di scuole e aree pubbliche. A ideare e organizzare l'iniziativa è il presidente della provincia di Pordenone, Alessandro Ciriani. Siamo riusciti a fare un piccolo miracolo perché nonostante il taglio dei trasferimenti, le situazioni economiche degli enti pubblici, compresa la provincia, mettere in sicurezza questo progetto non era per nulla scontato. Abbiamo messo a disposizione risorse nostre, risorse proprie dell'ente per consentire anche quest'anno a 200 ragazzi di lavorare le nostre dipendenze durante il mese di luglio e il mese di agosto. Cosa faranno? Faranno i lavori che hanno svolto anche negli anni scorsi, quindi tinteggiature delle scuole piuttosto che delle proprietà della provincia, sfalci, manutenzioni varie. Quindi lavori manuali, lavori faticosi che però gli faranno apprezzare il senso del sacrificio a fronte di una paga che non sarà statosferica ma consentirà loro di passare le vacanze sicuramente in maniera più intelligente. Accanto a questo ricordo anche tutti gli altri provvedimenti messi in campo dalle province, dalle borse di studio, ai viaggi premio, agli abbattimenti per le spese di trasporto, che compongono un pacchetto, chiamalo così, sociale di cui andiamo orgogliosi. Siete riusciti a organizzare agevolmente questa iniziativa? Gli lo dico perché spesso la burocrazia ferma questo genere di iniziative e non solo. Quest'anno c'è stato il rischio di non farlo per davvero, un po' anche perché eravamo stanchi. Ci sono mille vincoli per quanto riguarda il rilascio dei voucher per i pagamenti dei ragazzi e poi c'è una follia tutta italiana per cui questi ragazzi sono assimilati a lavoratori dipendenti dell'ente provincia per cui possono lavorare solo ed esclusivamente nella proprietà della provincia. Cioè per esempio non possono andarli a pulire i parchi dei comuni. È una follia tutta italiana, però grazie a Dio o sfortunatamente abbiamo tante proprietà da mettere in ordine e quindi verranno utilizzate le nostre scuole e le nostre proprietà.